Ci siamo riuniti per cercare di fare un coordinamento tra istituzioni e non solo prevedere gli eventuali interventi in base alle esigenze che dovessero crearsi per i nostri concittadini. È un modo da un lato per stare vicino ai nostri concittadini, dare la massima serenità, tutto è sotto controllo, però nel caso ci fosse bisogno, vale per oggi ma vale anche per un domani, bisogna assolutamente essere pronti e coordinarci per tutte le evenienze. L'emergenza coronavirus rischia di paralizzare il paese, c'è proprio un legame fortissimo tra il problema percepito, l'emergenza percepito e quelli che sono invece i numeri reali. La macchina di assistenza, di sostegno alla gente, una macchina complessivamente intesa di tutti i livelli istituzionali che sostengono poi lo sforzo che in questo momento enorme sta venendo fatto dalle autorità sanitarie, è una macchina che sta operando a pieno regime. C'è un altissimo, veramente un altissimo livello di attenzione e anche di comprensione, di compenetrazione da parte della gente, da parte dei cittadini. L'appello di tutti è che ci sia una collaborazione fra le istituzioni, non ci sia una speculazione politica ma che tutte le istituzioni collaborino e concorrano affinché il problema venga risolto il più presto possibile. Assolutamente sì, ma in questo senso io sono molto fiducioso e vedo che c'è veramente grande collaborazione fra tutti i livelli istituzionali, a partire dall'autorità sanitaria e in genere con tutti noi che siamo e operiamo sul territorio.